Dovrebbe essere qui, la ricetta, mortale in bignetti, maccheroni fulminanti, funghi velenosi, pasticche al cuvaro, udino all'arsenito, sì! In un grande petrolon, metto zappe di scorpion, ed aggiungo con piacere, di petrolio un bel bicchier, oh, meglio metterne due! Sublimato in quantità, diciannuno o una metà, strichenina, non finio! E curarò da impazzire! No! Di narcotico, si sa, ne mettiamo qua e là, vetriolo quando vuoi, ed arsenico se vuoi! Comunque è bene mettere una parricchia! Pepe rosso a profusione, poco sangue di montone, fermi fritti al maschio! E di sale un pesciglio? No! Pat! Troppi morti un cesto pieno, e di copra il gran belen, e per completare il trucco, di un'arancia metti il succo! No, l'arancia contiene vitamine! Poi confetti di cicuta, tanta sega, la cornuta, e mi son stancato in bo! Di vetriolo un altro po'? No! Oh, sì! Ah, l'avrei giurato che ci voleva! Qui la torta prepariam, ed in dono la portiam, E chi se la mangerà, certamente creperà! Cle-pe-la! Oh, sì! Oh, sì!